amici buongiorno dopo tanti vizi nel forno stamattina iniziamo al fresco eccoci qua dalla nostra fantastica trippa ai brasati già pronti la tagliata con l'insalatina mista quella con rucola e pomodorini e il nostro couscous signori tutti i piatti pronti veloci e freschissimi eccoli qua eccoci qua che dirvi oggi sei luglio siamo pronti freschissimi come sempre e con la nostra super qualità buongiorno buonanotte vicino ma che fai sa tuo padre che ti sta aspettando e io ho detto che sono ancora la festa è finita e viva la vita la gente si sbagliata riuscire a tutto a posto si è andato tutto a posto ma poi ma anche il barbato ma grazie ecco ecco scusa ma è venuto ora vicenza eh da più di mezz'ora veramente eh sta lavorando giù ha fatto salsicce si è schiacciato l'hamburger ah ma vicenza si sta da sì sta giù sta lavorando e poi quella è una macchina vicenza 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 è una macchina vicenza è una macchina gianna difendeva il suo salario signor non babbo oi vici ma che stai facendo ciò buona gli hamburger le salsicce le cotolette le polpette le pettine il macinato e i polpi mazzi ecco a tuo posto ma l'hai fatto ragazzi forza pronti per i saluti signori i freschi di oggi ve li abbiamo presentati fa ancora caldo il caldo è impossibile si muore quindi un po' di trippa un'insalatina un po' di couscous sono perfetti ma che sta succedendo ma che c'è però babbo è una settimana non sto spezzando a scrivere i miei soldi che i soldi a scrivere a scrivere a scrivere a 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